Poi? spira per la testa e il trapato cammina troppo spira per la testa e il trapato spira da quel polso e gira tranquilla spira sempre spira sempre Grazie. 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 Espira, espira, rilassa i muscoli, le braccia, non vedete l'impressione. Guarda le gambe, segua la del santo, alza la testa. Due minuti. Vai, ricca. Quando vuoi non sembro attaccare una gamba, eh? Se stai più basso con le gambe. Ma stai più basso con le gambe. Più basso non puoi prendere, con un cambio di livello. Prendi proprio un sicuro tempo semplice. Gamba, il deciso di gamba, il finito è messo. Il scinto è semplice, eh? O se no ci metti una gamba, decidi di un quadro. Entra sotto, entra. Ecco, vai, vai. Lasciata agganciare. Attenzione al cambio di livello. Gamba dentro. Gira dentro. Giralo, giralo. Gamba dentro. Gamba dentro. Gamba dentro. Gamba dentro e porta la terra. Ragiona, eh? Gamba dentro. scendi sotto scendi sotto scendi sotto scendi sotto scendi sotto quella che si viene alzata allungo la mano perci con l'epo con la tua mano destra vai step liberatelo libera il braccio che ti tiene equilibrio passo su queste gambe snap down tiralo giù tiralo giù si 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 tiralo pieno vai prendi a secondi portalo a tre i mani in piedi manca poco i mani in piedi volo sciitti volo sciitti volo i mani in piedi volo i cinti volo i mani in piedi bravo rimani su rimani su rimani su rimani su rimani su